Questa è un Audi R8 completamente diversa da quella che avete conosciuto fino ad oggi. Chi è il primo che indovina perché? Beh, ve lo dico io, perché questa è la prima Audi della storia a trazione posteriore. Sono quasi commosso mentre sono vicino a quest'auto perché dopo tanti anni in cui la casa dei quattro anelli è rimasta fedele alla tecnologia quattro e quindi alla trazione integrale ha finalmente, aggiungo io, deciso di fare una supercar per puristi, quindi con la sola trazione posteriore. Il suo nome è Audi R8 RWS, un acronimo che indica Rare Wheel Series. La notizia brutta è che è un'edizione limitata, ha soli 999 esemplari, però tant'è, la R8 a trazione posteriore esiste ed è una realtà e la potrete comprare. Sotto al cofano rimane il motore centrale 5.2 litri V10 da 540 cavalli e 540 N per metro, quindi con una versione meno potente di quella plus, diciamo, del top di gamma, ma le prestazioni sono notevoli. 3.7 secondi per lo 0 a 100, 3.8 pochissimo di più per la Spyder e 320 km orari di velocità massima. Rispetto alla versione tradizionale dell'Area 8, quella con trazione 4, qui si sono fatti progressi anche dal punto di vista del peso, perché la massa totale si è ridotta di 50 kg, quindi il peso scende a 1590 kg totali. Vedete che la trazione posteriore fa bene sempre alle supercar, in questo modo l'Audi in qualche maniera replica la filosofia della gemella, diciamo, supercar Lamborghini Huracan, anche lei disponibile in una versione con la sola trazione posteriore e devo dire che è una gran bella notizia, anche perché i prezzi, se rimangono ovviamente riservati a pochi, perché si tratta pur sempre di una supercar, si sono leggermente ridotti. La rear wheel series verrà offerta in Germania a 140.000 euro per la versione Coupé e 153.000 euro per la versione Spyder. Insomma, l'R8 per puristi è diventata una realtà, trazione posteriore io non avrei dubbi, la comprerei così, ma il nome, rear wheel series, mi lascia ben sperare per il futuro. La parola series, quindi serie, che in futuro la casa dei quattro anelli abbia voglia di fare altri modelli a trazione posteriore, io lo spero, e voi? Raccontatevelo nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima auto!